Apparentemente erano dei centri massaggi, in realtà si praticava sesso a pagamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'hanno chiamata operazione Happy Handing ed è il risultato delle indagini congiunte tra la polizia di Stato e la polizia locale di Pesaro che hanno stroncato un florido giro di prostitute, almeno 12, quasi tutte italiane, che operavano in alcuni fantomatici centri massaggi olistici tra Pesaro e Rimini, gestiti da una coppia di uomini pregiudicati, 39 anni e 51 anni, uno residente a Rimini, l'altro residente a Pesaro. Questa mattina, presso la questura di Pesaro, il capo della squadra mobile Silio Bozzi e il commissario Guerra della polizia locale hanno illustrato i dettagli di un'operazione congiunta durata mesi, in un crescendo di intensità. In una prima fase, infatti, lo scorso 5 maggio, erano stati sequestrati in via preventiva i locali del Body Harmony Club di via Toscanini 29 a Pesaro, pseudo-associazione culturale dove alcune donne italiane effettuavano massaggi a sfondo sessuale a pagamento. Il gruppo criminale, però, per nulla spaventato, nonostante il deferimento di uno dei due uomini insieme alla propria convivente, dopo pochi giorni hanno avviato altri due centri dove continuare a operare, uno a Pesaro, presso Borgo Santa Maria denominato Namastè, e uno a Rimini, estremamente lussuoso, ricavato in una villa di prestigio e denominato Villa Principe. Il giro era sostenuto da pubblicità attrattive e molto efficaci, che in poco tempo hanno fatto arrivare nei centri moltissimi clienti di tutti gli strati sociali, alcuni molto noti a Pesaro, e sviluppando un fatturato da diverse migliaia di euro al giorno. Un'attività florida che però la Polizia ha potuto documentare con indagini ad alto tasso tecnico, che hanno prodotto tutti i riscontri necessari per far scattare l'arresto e mettere i sigilli. Sulla scolta degli elementi raccolti, infatti, lo scorso 9 luglio il GIP di Pesaro ha accolto la richiesta del PM, emettendo l'ordinanza che ha segnato la fine del traffico e la traduzione in carcere dei due uomini presso il penitenziario di Villa Fastigi. Abbiamo scoperto un sodalizio criminale che, attraverso il paravento di centri dove avrebbe dovuto praticarsi un massaggio di tipo olistico-tantrico, veniva praticata un'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che ha visto coinvolte anche 12 donne, quasi tutte di nazionalità italiana. Era un'attività molto redditizia, tanto è vero che la prima tranche dell'indagine che ci ha consentito di denunciare all'autorità giudiziaria due di questi soggetti è proseguita, anzi si è espansa e tracimato nel Riminese, dove il flusso di denaro e di cliente era molto più importante.